Sono iniziati nel comune costiero i quarti di finale del singolo maschile del prestigioso torneo dell'ATP Challenger Roseto. Arnaboldi e Cobolli sono gli unici superstiti della pattuglia azzurra che poteva contare in partenza su 13 atleti. Anche oggi buona la partecipazione di pubblico, presenti anche alcune classi delle scuole del territorio. Sul Reteotto Sport, canale 11, domenica 13, domenica 20 marzo alle ore 14.30 verrà trasmessa la diretta delle finali di tennis. Finestre in diretta calcio integrale sul canale 112, Reteotto News. Oggi iniziano i quarti di finale, le semifinali di doppio, c'è già diverso pubblico tenendo conto che comunque è un orario di lavoro. Ci aspettiamo il pienone per le semifinali e la finale di domenica alle 2, che ci sarà la diretta di Reteotto. C'è grande attesa per la prestazione di Flavio Cobolli, devo dire che mi hanno chiamato più persone, quindi ci aspettiamo un grande spettacolo sul campo centrale. Ci sono state delle grandi novità e soprattutto anche delle conferme? Sì, le novità ci sono perché è un momento particolare, il primo torneo in Europa Terra Rossa, sicuramente Carlo Staberner sta rispettando il seeding. Ci auguriamo tutti per Flavio Cobolli, perché? Perché è giovane, è una delle speranze del tennis italiano, ma senza ovviamente augurando il meglio a tutti i giocatori come è giusto che sia. Evento che rappresenta un'importante vetrina per il comune di Roseto. Sì, abbiamo giocato 4 stagioni in una settimana, con la neve, con il sole, con il nuvoloso Roseto, comunque è diventata capitale dello sport. Oggi siamo ai quarti di finale, due italiani ancora in corsa, ci auguriamo di avere una semifinale tutta italiana, ma soprattutto una Roseto attraente e attrattiva, capitale dello sport e del turismo. In questi giorni tra l'altro ci sono anche le finali di Coppa Italia Final 8 di Serie B1 e Serie A2, insomma un momento storico per la mia e per la nostra città che vuole essere pronta, si è fatta trovare pronta e lo farà anche in futuro, perché Roseto deve essere città dello sport.